L'Hot Couture secondo Oreos Aurea, un'esecuzione sartoriale a regola d'arte per abiti d'alta moda che esaltano l'armonia del corpo femminile. La stilista Luciana Emili ama particolarmente l'unicità che caratterizza ogni sua creazione, la possibilità di giungere ogni volta a risultati irripetibili ed eccezionali, nei quali siano evidenti la ricerca e lo studio del dettaglio prezioso, negli abiti da sposa come in quelli da cerimonia. L'Hot Couture La scelta dei materiali riveste una straordinaria importanza. Tessuti esclusivi come Valentino Atelier e Ungaro Atelier, i pizzi francesi Sofie Allette Haute Couture, Richard Marescot Haute Couture e Solstice. Gli abiti si arricchiscono poi di ricami realizzati a mano, cristalli, pietre di rocca, paillette, anche prodotte ad hoc e ovviamente la maestria artigianale, indispensabile per creare capi di questa preziosità, seguendo l'inventiva inesauribile della stilista. Una vera forma d'arte perché si lavora con la creatività, con l'accostamento di colori. Si sottolineano luci e ombre, si combinano tonalità e sensazioni. Si veste la femminilità seguendone le proporzioni, ma allo stesso tempo rompendo i consueti equilibri, valorizzando la bellezza della donna in modo innovativo e raffinato, con un'attenzione particolare alle linee e alla vestibilità contemporanea. Corpetti lussuosi e finamente decorati, tessuti morbidi e fascianti, abbracciano una siluetta romantica e sinuosa. Accenti da fin des siècles in bustie stringati che modellano la figura e le donano un'anima grintosa e seducente. Tessuti cangianti, brillanti satene, pizzi e organze, pavè di lustrini e drappeggi. Décolté dal design eclettico, esaltati da una lavorazione artigianale che non ha tempo. I contrasti e la loro infinita armonia è l'idea che illumina le collezioni gioiello dell'Hot Couture, secondo Oreos Orea. Grazie a tutti.